La prefettura sospende il sindaco di Cervaro, Angelo D'Aliesio, sostituito temporaneamente dal suo vice, dopo la vicenda per l'appalto sui rifiuti del comune, dove sono coinvolti anche due assessori, un tecnico comunale e l'imprenditore dell'azienda TAC Ecologica. Attesa a breve la convocazione dell'assise in cui formalizzare la supplenza, con l'ingresso in consiglio dei primi dei non eletti per quanto riguarda gli assessori. Un passaggio obbligato, legato alla necessità di consentire alla vita amministrativa di procedere senza problemi, mentre si farà chiarezza davanti ai magistrati per ciò che concerne le posizioni dei tre sottoposti a misure cautelari domiciliari, per un'ipotesi di turbativa d'asta e corruzione. La comunicazione della prefettura dovrebbe essere già stata notificata a lente. Nella giornata di oggi, sindaco, assessori, tecnico e imprenditore saranno chiamati a riferire le loro verità, rigettando con forza le accuse a loro carico. Il GIP Sodani ha condiviso appieno quanto riscontrato dalle indagini del dottor De Franco affidate ai carabinieri forestali. Per gli inquirenti, il sindaco Daliesio, gli assessori Ricciardelli e Canale, il tecnico Pucci e l'imprenditore Coratti avrebbero contribuito, in varia misura, a creare le condizioni affinché la gara, che aveva come oggetto l'aggiudicazione del servizio di smaltimento dei rifiuti in favore dell'attacca ecologica SRL, in cambio dell'assunzione di soggetti previamente indicati e raccomandati dai pubblici ufficiali.